Per le feste di Natale, Universal Pictures e Imagine Entertainment vi invitano ad assaporare la magia di una bellissima favola, raccontata come non potreste mai immaginare, in un luogo in cui lo spirito natalizio è ovunque. Buon Natale e felice giubilanza a tutti voi! Alla gioia diamo inizio, bello, almeno quasi, ovunque. Quanto tempo mancherà, vecchio, giovane, bambino, no! Basta con questa musica natalizia, è così gioiosa che avrà il cuore. Jim Carrey è... Il, 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 il... Il Grange! Devo fermare il Natale assolutamente! Dai, Universal Pictures! Ma quale vestito mai dà! Ho dimenticato l'Arenna! Azione! Bravissimo! Signor Grinch! Anche io ho dei dubbi sullo spirito natalizio. Non mi interessa. Ma se lei potesse unirsi a noi non so chi e festeggiare il Natale... Se lei potesse unirsi a noi non so chi e festeggiare il Natale... Ma cresci un po'! Se pensate che questa storia non vi incanterà... E se fosse tutto un malinteso? Questo potrebbe cambiare completamente la mia concezione della vita! Davvero? No! Non conoscete il Grinch! Questa è una vera... Sono lì io! Vomito, vomito, vomito! Voglio, voglio, voglio! Jim Carrey! No! In un film di Ron Howard! Il Grinch! Oh oh! C'è un personaggio che è... Favoloso! Favoloso! Grazie a tutti